Ciao a tutti, noi siamo Cecilia Delli di Fashionog Italia e questo è il primo corso gratuito che realizziamo sull'addestramento del cane. Quindi se volete restare sempre aggiornati sui nuovi video che pubblichiamo ogni settimana, iscrivetevi al nostro canale così da ricevere la notifica via email sul nuovo video pubblicato. Se seguirete l'intero corso avrete una preparazione completa sull'addestramento del cane. Cosa andremo a vedere oggi insieme? Oggi parleremo delle 5 regole fondamentali per diventare il leader del branco. Quindi se il tuo cane è rispettoso e tu vuoi prendere il comando della situazione e diventare appunto il leader, allora ascolta queste 5 regole e che il tuo cane sia un cucciolo o adulto puoi metterli in pratica per fargli capire chi davvero comanda. La prima regola fondamentale per diventare il leader del branco è il controllo del cibo. Nel regno animale chi controlla il cibo è il leader del branco, quindi se non l'hai ancora fatto dovrai iniziare a farlo. Di cosa sto parlando? Il tuo cane dovrà mangiare sempre dopo di te, quindi non dovrai farti corrompere da musiteneri, da zampine che ti accarezzano, da linguette dolci, nulla, non dovrai dare proprio niente dal tavolo. Questo è il primo punto e quindi il cane mangerà dopo i tuoi pasti, se è un cucciolo dopo la colazione, dopo il pranzo e dopo la cena, se è un cane adulto dopo la colazione e dopo la cena. Bene, poi quando darai da mangiare al tuo cane preparerai la ciotola e prima di darla intanto lo farai sedere o comunque gli farai fare qualcosa, un comando. Fatto ciò prenderai in mano la ciotola, nella tua mano sinistra la ciotola, nella mano destra terrai un biscotto, qualcosa che potrai mangiare tu invece e farai bene attenzione che il tuo cane ti stia guardando, metterai in bocca il cibo che puoi mangiare, quindi il biscotto, un cracker, qualsiasi cosa e poi poserai a terra la ciotola del cane. Facendo ciò stai dicendo al cane io sono più importante, io mangio prima, sono il leader e tu vieni dopo. Questo è molto importante per fare capire al cane chi sia il leader. Fatto ciò, poggia per terra la ciotola e lascia che il tuo cane la mangi. Se il cane la udora e va via, non la mangia subito, si rifiuta, benissimo, prendete la ciotola, toglietela da terra e la riproporrete al cane al passo successivo, senza dare biscottini, dolcetti o altro durante la pausa tra la colazione e la cena o comunque tra il primo pasto e il secondo. Mi raccomando, al secondo passo riproponete la stessa ciotola nella stessa maniera, mangiando prima voi qualcosa, un cracker, un biscotto e poi poggiando in terra la ciotola. La seconda regola fondamentale per diventare il leader del branco è la gestione delle situazioni di pericolo. Di cosa sto parlando? Quando siete in una stanza e sentite il vostro cane che va ad abbaiare ad esempio davanti la porta o davanti la finestra perché ha sentito il rumore, voi dovrete semplicemente dire grazie senza spostarvi dal posto in cui vi trovate. Se il cane smette di abbaiare, bene, se il cane non smette allora andate di là nell'altra stanza senza guardarlo, date un'occhiata intorno e dite nuovamente grazie e tornate di là. Se vedete che il cane continua ancora ad abbaiare, tornate nella stanza, prendete il cane dal collare, dal vestitino, comunque se è un cane piccolo potete prenderlo anche in braccio e mettetelo in un'altra stanza in isolamento. Lasciatelo lì fin quando si sarà accalmato e avrà smesso di abbaiare. Facendo ciò dimostrerete al vostro cane che voi siete il leader, che voi lo state ringraziando perché vi sta avvisando per un rumore, per qualcosa, ma sarete voi a gestire la situazione e quindi lui non dovrà continuare ad abbaiare. Ripetete questa cosa per più volte fin quando il vostro cane non avrà capito. Una cosa molto importante da fare in queste situazioni è mantenere la calma. Il vostro cane percepisce il vostro stato di nervosismo, di rabbia, di infastidimento per il suono del suo abbaiare continuo. Quindi prima di andare nell'altra stanza mi raccomando fate un respiro profondo e mantenete la calma. Il linguaggio del corpo è il primo che il cane riceve, ancora prima appunto della parola. La terza regola per diventare il leader del branco è la regola della separazione. A volte è difficile da accettare per un padrone di cani ma necessaria per essere il leader. Dobbiamo capire prima di tutto che i cani pensano in maniera diversa rispetto a noi umani. Quindi di cosa si tratta? Questa regola, chiamata regola della separazione, dice che quando rientrate in casa, dopo aver lasciato il cane, il cane inizierà solitamente ad abbaiare, ad aggredirvi, a mordervi perché siete stati fuori o comunque avrà la foga del gioco, vi tirerà i pantaloni, farà di tutto per attrarre l'attenzione. Voi dovrete semplicemente ignorarlo. So che è una cosa molto difficile, è molto complicata, lo è stato anche per me nel mio caso con la mia piccolina. Quindi dovrete ignorare totalmente il cane, andarvi a sedere, fare le vostre cose, levatevi il soprabbito, posate quello che avete in mano, ignorando totalmente il cane, mi raccomando. Fatto ciò, quando il cane si sarà calmato, attendete 5 minuti circa e poi chiamatelo a voi. Quindi chiamatelo per nome, se il cane verrà, bene. Se il cane invece non verrà e inizierà ad abbaiare o comunque resterà distante, allora ricominciate ad ignorarlo. Quando saranno passati altri 5 minuti il cane si sarà calmato di nuovo, prendete un ossetto, teneteli in mano e chiamate a voi il cane. Se il cane verrà da voi, bene, se no ricominciate ad ignorarlo. Questo esercizio serve anche per insegnare al vostro cane il vieni. Quindi quando voi lo chiamate, dite il suo nome, il cane dovrà venire da voi ovviamente. La quarta regola per essere il leader del branco è che il cane debba stare alle tue regole. Quindi quando il cane viene ad esempio e chiede affetto, si siede sul tuo piede, allontanalo. Tu devi avere il tuo spazio personale libero e sarai tu ad imitare il tuo cane ad entrarci quando vorrai fargli le coccole. Non che tu non voglia fargli le coccole nel momento in cui lui te le chiede, ma questo servirà al cane ad associare il fatto che tu lo stai chiamando al dare affetto. Quindi sarai tu a decidere dove e quando. Se il tuo cane viene e sale sul letto, sul divano e si butta su di te, si rotola, allontanalo. Fai questo ripetute molte volte fin quando il tuo cane si sarà abituato. Non premiarlo se ad esempio tu vai in giro per la casa e lui ti segue dappertutto. Il tuo cane deve avere la sua indipendenza, quindi se tu vai in bagno lui potrà restare in salotto ad esempio. Mi raccomando, mantieni il tuo spazio personale libero e protetto e sii tu a scegliere quando invitare il tuo cane a entrarvi. Quindi decidi quando fare le coccole, quando giocare, quando stare insieme. La quinta regola è quella della camminata. Di cosa si tratta? Quando prendete il guinzaglio in mano, il vostro cane inizia a saltare, ad abbaiare, si eccita. Sbagliatissimo. Dovete posare il guinzaglio e attendere che lui si calmi. Appena si sarà calmato, riprovate prendendo il guinzaglio. Se il cane continuerà a saltare, a mordicciarvi, ad appaiare, allora prendete il cane e isolatelo attendendo che lui si calmi. Fate delle prove ovviamente non quando avete fretta di uscire. Quindi il cane potrà uscire di casa quando sarà calmo e si farà mettere il guinzaglio in maniera tranquilla e rilassata. Un problema molto comune durante la camminata è che il cane tira. Quindi tira il guinzaglio davanti, ci trascina, insomma. Questo è sbagliatissimo. Il cane deve stare alle nostre regole. Quindi cosa dovrai fare per abituare il cane? Puoi iniziare portando, appena il cane si sarà calmato, mi raccomando, portando il cane fuori casa, magari in uno spazio conosciuto, un cortile, un giardino, e iniziare a fare delle prove con un guinzaglio molto corto. Lascia circa 50 cm di spazio tra la tua mano e il cane. Così da poter gestire bene la situazione. Non lasciare assolutamente che il cane ti trascini, ma sii tu a cambiare direzione. Fai qualche passo avanti e poi torna indietro, di modo che il cane ti segua e inizi a capire chi è il padrone. Fai qualche giro anche intorno al cane, così da definire, appunto, la tua posizione di leader. Esercitati ogni giorno per circa 20 minuti. Vedrai che dopo una settimana circa il cane avrà preso e potrai iniziare a fare delle prove per strada. Quindi il tuo cane camminerà al tuo fianco. Ma vedremo più avanti una video lezione dedicata solamente al portare al guinzaglio il cane. Una cosa molto importante che consiglio a tutti i preferiti di cani è di avere un guinzaglio che abbia una pettorina ad H, così da non fare male al cane intanto durante gli allenamenti e gli esercizi e poi per avere appunto il pieno controllo del guinzaglio e del cane. Spero che questo video sulle 5 regole fondamentali per diventare il leader del branco vi sia stato utile. Se volete restare aggiornati e essere informati sul prossimo video che pubblicherò e quindi seguire l'intero corso, vi consiglio di iscrivervi al canale per ricevere le notifiche via email. Quindi arrivederci al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Cecilia ed Elila Dormigliona. Ciao! Ciao!